buongiorno da telpress italia primo piano nota stampa dim giovedì 8 luglio per quanto riguarda i temi di difesa emirati l'italia riapre ridotto l'embargo sulla vendita di armi scrive repubblica il governo italiano ha deciso di ridurre il peso dell'embargo adottato in gennaio contro l'esportazione di armi verso l'arabia saudita e gli emirati a questo punto le prime ad essere sbloccate sarebbero le consegne dei ricambi per gli aerei mb 339 della pattuglia acrobatica degli emirati aerei simili a quelli delle frecce tricolori italiane la decisione della farnesina è il primo tentativo italiano di frenare la crisi politica nata fra italia e emirati dopo la decisione del governo conte di bloccare le vendite già autorizzate ieri alla camera il ministro guerini ha detto che al momento la difesa si appoggia a una base in kuwait ma guarda con attenzione alle iniziative diplomatiche per recuperare un alleato strategico secondo la stampa l'italia in prima linea in iraq guiderà la missione nato via dall'afghanistan sfrattati anche dagli emirati arabi uniti dove c'era una base aerea per logistica afghana il nuovo focus per le missioni estere della nostra difesa è l'iraq come spiegato in parlamento dal ministro guerini nella prima pera prossima ci sarà un generale italiano a capo della missione nato in iraq paese di elevata priorità strategica sia sul piano degli equilibri regionali sia tutela dei nostri interessi nazionali a partire dal tema prioritario degli approvvigionamenti energetici ha detto lo stesso guerini la minaccia dell'isis da quelle parti sembra rientrata ma non del tutto il manifesto si concentra invece sulla libia titolando c'è chi dice no le ragioni dei contrari al sostegno alle milizie nella sala caduti di nassiria del senato sono risuonate ieri le voci di chi si oppone al rifinanziamento della guardia costiera libica da un lato gli organizzatori le 32 associazioni che compongono il tavolo asilo emigrazione dall'altro la pattuglia di onorevoli pronti a votare no alla misura tra camera senato alla fine dovrebbero essere una cinquantina quelli che rifiuteranno di essere complici di un crimine cosa che hanno ripetuto diversi interventi il decreto missioni intanto arriverà alla camera il 15 luglio mentre in senato non è ancora stato calendarizzato secondo quanto riportato dal sole intanto fincantieri stringe sulla gara da 3 miliardi per la nuova flotta greca la commessa che vale appunto 3 miliardi di euro include supporto logistico e servizi post vendita e vede in campo fincantieri con il suo prodotto di punta nel militare la fregata multimissione frem con cui il gruppo guidato da giuseppe bono ha già conquistato l'interesse di altri paesi la marina greca punta a stringere il cerchio entro settembre avviando la negoziazione in esclusiva con il potenziale vincitore per poi giungere alla firma del contratto nel 2022 afghanistan il futuro perduto scrive la stampa dopo il ritiro delle forze statunitensi taleban arrivano alle porte di kabul e gli jihadisti riconquistano terreno iran e russia temono profughi islamisti il governo di kabul intanto continua a dire che resisterà nonostante i jihadisti si siano presi un quarto dei 387 distretti del paese l'ultimo accadere ieri è stato quello di khala el-nav nella provincia di badgis il ministro della difesa mohammadi ha ribadito che le forze nazionali useranno tutta la loro potenza per difendere la patria anche la base di bagram lasciata di nascosto dagli americani è già stata saccheggiata secondo il manifesto in afghanistan i talebani continuano l'offensiva militare ma sostengono di essere pronti al dialogo negoziale come teheran molti altri attori regionali stanno intensificando le pressioni sui talebani affinché tornino al tavolo negoziale il dialogo intra afgano è cominciato nel settembre 2020 producendo però poco o nulla per il foglio con il ritiro americano dell'afghanistan finisce la pacchia segreta di teheran secondo il quotidiano gli iraniani non ragionano in modo tanto semplice da avere un solo nemico alla volta e sono discretamente allenati alla pratica del doppio gioco l'iran finora ha flirtato sia con il governo di kabul alleato degli stati uniti sia con i talebani li ha finanziati ha fornito carburante le armi e a volte anche gli uomini quella dei legami tra la repubblica islamica e talebani è una storia tortuosa scrive il quotidiano i nemici dell'occidente sono stati anche i loro solo tre anni prima dell'11 settembre avevano massacrato 11 diplomatici e giornalisti iraniani anche a venire parla di taleban sempre più aggressivi ora avanzano nelle città titolo al quotidiano per quanto riguarda gli esteri è scontro ue ungheria la von der leyen pronti a tutto per fermare la legge anti lgbt scrive la stampa la presidente della commissione ue dall'ultimatum al premier orban l'ungheria agisca o userò ogni potere intanto sale l'attenzione anche con la polonia per le zone libere dei gay il ministro della giustizia ungherese judith varga al giornale dice si rispetti la volontà degli ungheresi la legge è stata adottata per proteggere i bambini e i diritti dei genitori è in linea con l'europa haiti ucciso in un raid in casa il presidente moise il paese precipita nel caos scrivono stampa e tutti sono stati mercenari stranieri fa sapere il governo ora pieni poteri al premier joseph che dichiara lo stato di emergenza chiede alla comunità internazionale di avviare un'inchiesta si rischia la guerra civile tra i temi economici in primo piano il giornale segnala pill da boom economico italia tra i top dell'europa la commissione rivede la stima del 2021 al più 5 per cento solo l'anno prossimo il ritorno ai valori pre crisi il messaggero segnala invece un'estate senza tasse per le partite iva irpef al 10 settembre accordo in maggioranza per concedere altri 50 giorni di tempo agli autonomi verso la proroga della rata del 20 luglio coinvolti circa 3,5 milioni di lavoratori cartelle dichiarazioni e tasse la camera riscrive il calendario scrive il sole slittano al 10 settembre i versamenti delle partite iva soggette alle pagelle fiscali rinvio al 15 novembre per la rivalutazione di quote e terreni pace fiscale diluita in quattro rate fino ad ottobre in politica corsie prefidenziali negli ab il piano per immunizzare i prof scrive il corriere lettera di figliuolo alle regioni coinvolgere i medici di base nel comparto istruzione oltre 200 mila addetti senza la prima dose il messaggero parla di ira dei presidi contro i docenti novac serve obbligatorietà oltre 215 mila prof non hanno ancora aderito alla campagna sono un pericolo il pressing dei dirigenti sul governo solo con i vaccini si riparte in sicurezza continua intanto l'ascesa della variante delta in piazza sì ma tenete le distanze il sottosegretario costa prudenza non paura così salvaguardiamo due anni di sforzi l'oms nel mondo ormai i morti hanno toccato quota 4 milioni ancora il ddl zanne tra i temi in primo piano sul messaggero arrivano le parole di salvini pd irragionevole preferisce far saltare tutto il leader della lega dalla santa sede al mondo lgbt invitano tutti al dialogo renzi se il nostro lavoro ha permesso di superare il disastro conte va bene così sul ddl zanne ora si rischia il rinvio in lega pronta all'istruzionismo scrive la stampa tra i dem emergono i primi mal di pancia italia viva presenterà i suoi emendamenti in aula per repubblica e conta sul filo decisivi la tenuta di italia viva e il soccorso forzista il voto al senato del 13 luglio franchi tiratori in entrambi gli schieramenti anche per oggi da telpress italia è tutto l'appuntamento torna domani